Bonifica di Porto Marghera, mancano 3,5 chilometri per terminare le attività di marginamento del SIND. Il sindaco Brugnaro fa appello alle istituzioni, non ci lasciate da soli. Ma assolutamente, noi non lasciamo soli nessuno e la dimostrazione non è soltanto con le parole. Entro il 31 dicembre dell'anno corrente noi daremo nella cassa degli enti preposti 72 milioni di euro proprio per le bonifiche. Proprio per completare quest'ultima tranche di lavori e non buttare a mare tutto ciò che è stato fatto precedentemente. Per cui su questo io sono assolutamente sereno, le carte si stanno definendo proprio nell'ultimo metro amministrativo ma le risorse ci sono, gli accordi ci sono. Quindi per la fine dell'anno sicuramente quanto occorre verrà definito nelle casse, attenzione non solo stanziato, ma definito nelle casse. Grazie.